Seduta straordinaria del tavolo per la competitività e lo sviluppo questa mattina a Eupiglio, al centro remiero del lago di Pusiano. Una riunione sul problema legato al livello minimo delle acque del lago di Como, ormai costantemente e artificiosamente mantenuto al di sotto della quota convenzionale dello zero idrometrico. Attorno al tavolo consiglieri della Camera di Commercio, istituzioni parlamentari, consiglieri regionali e organizzazioni sindacali. Non è più accettabile l'ario con il livello delle acque come quello che abbiamo oggi. L'abbiamo detto anni fa, sono anni che stiamo facendo questa battaglia, oggi abbiamo trovato un tavolo dove erano presenti tutti e tutti erano d'accordo sulle problematiche enormi che stanno comportando questo problema del limite basso dell'ario, della gestione, mal gestione direi, del livello delle acque dal consorzio dell'Alda. Perché purtroppo è vero che c'è una fase climatica diversa negli ultimi anni, sono vero tanti altri fattori, ma noi stiamo pagando dei danni da decenni che non è più ammissibile, non è più tollerabile. Sono tre le richieste rinunciabili che verranno presentate in un documento condiviso al Ministero. L'impossibilità di abbassare le acque dell'ario oltre il livello invalicabile dello zero idrometrico, la presenza di un rappresentante lariano nel Consiglio di Amministrazione del Consorzio dell'Alda e un riconoscimento economico concreto a risarcimento dei danni infrastrutturali pregressi subiti dal territorio. Diverse infatti le conseguenze causate dall'abbassamento dei livelli del lago, innanzitutto l'estinzione dei lavarelli, pesci tipici dell'ario, ma non solo. I problemi sono molteplici, dobbiamo pensare dai muri che crollano, nel momento in cui la pressione dell'acqua viene a mancare, stiamo parlando di muri centenari, immaginatevi che la regina, l'unica strada di collegamento nella parte occidentale dell'ario, passa ancora l'unica strada percorribile. Il 90% è sul lago con i muri, abbiamo i pontili che non sono agibili perché il lago Massa non permette più l'agibilità, abbiamo le darsene chiuse, abbiamo mille altri problemi Grazie. Grazie.